Gioca in casa il cantautore e polistrumentista toscano Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo 2016 nella categoria Giovani, che il 10 agosto sarà a Forte dei Marmi, ospite di estate a Villa Bertelli. Lo farà con un concerto speciale per presentare dal vivo l'ultimo lavoro, Eternamente Ora, uscito il 12 febbraio e che segna una svolta nella carriera artistica di Francesco, soprattutto perché lo rappresenta pienamente in tutto il suo viaggio musicale. Un viaggio che ha intrapreso anni fa proprio in Toscana e che quindi vedrà uno dei suoi appuntamenti più importanti proprio in questa regione a Forte dei Marmi il 10 agosto nella bellissima programmazione di estate a Villa Bertelli.